Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Nonostante il Covid non possa e non potrà considerarsi sconfitto, l'assessore Saltamartini ha una certezza. Il Covid Hospital di Civitanova Marche non ne riaprirà. La questione del Covid Hospital è molto semplice. Quando fu allestito, fu allestito tra settembre e ottobre del 2020 perché la regione Marche aveva solamente 105 posti di terapia intensiva e quindi c'era la necessità su input del Governo che fossero realizzati immediatamente altri 115 posti che furono approvati dal Governo col decreto legge 34 del maggio del 2020. Una volta che i posti letto 115 aggiuntivi sono stati tutti realizzati, riaprire il Covid Hospital significa sottrarre anestesisti, medici internisti specializzati dagli ospedali. Nella prima fase in cui è stato utilizzato, noi abbiamo curato i pazienti Covid nell'ospedale Covid Hospital di Civitanova, ma abbiamo allungato le liste d'attesa per numerosissimi pazienti. Saltamartini sottolinea che sino a fine anno le strumentazioni dell'ospedale civitanovese non verranno trasferite e spiega perché il Covid Hospital è stato considerato una struttura di garanzia. Per il momento lo teniamo ancora in piedi probabilmente fino alla fine dell'anno, poi tutte le strumentazioni saranno portate nei plessi ospedalieri di Civitanova, di Macerata, degli ospedali che sono attigui appunto al Covid Hospital. Quindi lo voglio dire, è servito all'inizio, a metà pandemia, tra settembre, ottobre, novembre e dicembre del 2020 perché non c'erano altri posti letto. Oggi i posti letto ci sono, abbiamo una copertura ad ordinario di circa 250 posti di terapia intensiva. Questo penso possa garantire a sufficienza ai pazienti che nel caso in cui il virus da Covid dovesse nuovamente manifestare quei sintomi di pericolosità così come è avvenuto con le polmoniti interstiziali, ecco siamo pronti per reagire.